Fal di storio Per la sua funzione il sedile episcopale doveva essere custodito nella cattedrale. È privo di braccioli e schienale, a sedile in tela tenuto da due traverse laterali. I sostegni inferiori, a doppia curva incrociati ad X, sono in ferro battuto. I sostegni superiori, a fusto cilindrico modanato, culminano in liscipobi di ottone. Per la datazione si fa riferimento allo stemma del vescovo Donato Antonio Durante. Impresso nella sezione circolare superiore dei pomi. Egli fu a Ugento dal 1768 sino al 1781.